Buonasera signore e signori, ragazze e ragazze. Stasera voglio presentarvi un approfondimento per quanto riguarda un modello che ho già visto, ma che ho visto anche essere gradito al pubblico. Quindi vi presento Benelli TRK800 del 2022, andando a sviluppare quelle che sono appunto le caratteristiche del modello. Il progetto quindi che è stato sviluppato individua degli elementi essenziali che creano appunto tanta attesa. La moto si presenta con uno studio relativo all'ergonomia, allo stile tipicamente italiano e all'aggressività delle linee, con linee sinuose che si alternano a tratti più duri percepiti come tagli. L'estetica risulta molto personale ed è caratterizzata da volumi vuoti e pieni che rappresenta quindi un linguaggio nuovo nell'ambito del motociclismo. La moto si presenta come una moto turistica con qualche richiamo al fuoristrada, come indica la presenza della ruota anteriore da 19 pollici ed è una moto studiata per i viaggi stradali con cui percorrere anche qualche sterrato per divertimento. Qui dicevamo linee tondeggianti come si evidenzia in questa immagine, rappresentate dalla curva del serbatoio che va sulla sella ma anche come il becco anteriore vedete molto aggressive nelle loro forme. Quindi una moto che ha dalla sua caratteristiche estetiche notevoli e anche una cura dei dettagli particolari come ad esempio la forma vedete del faro anteriore come anche le frecce, frecce direzionali vedete che sono posizionati qui sotto, le prese d'aria insomma una cura generale proprio dal punto di vista stilistico. Non da ultimo vedete il bellissimo parabrezza che è perfettamente integrato nella linea ed anche funzionale. A chiudere il discorso insomma che riguarda una moto che rappresenta un'evoluzione notevole rispetto al passato e la presenza anche dei paramani. E quindi una moto che si è dedicata al turismo ma con una particolare attenzione anche a qualche escursione fuoristradistica. Bene quindi se vi è piaciuto mettete un like, se non vi è piaciuto dislike, attivate la campanella per essere sempre aggiornati dopo avervi iscritti naturalmente al canale e qui sotto i vostri commenti sempre molto graditi. Ciao a tutti, buona serata.